Forza Alessia, vai! Buono, vai! Forza Chiara, vai! Vai Già, eh? Grandissimo! Una, 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 una! Vai Iene! Lascialo andare! Grande! Bravo, bravo! Sono due volte vicino a 10, adesso dovrebbe essere l'abitore della squadra GDL, qui vediamo cosa ci dice l'abitore del bersaglio. Attendiamo la conferma dell'arbitro del bersaglio, che assegnerà direttamente la medaglia di bronzo, alla squadra degli argenti granchi! Grazie! Grazie!